La terza Commissione Consigliare Sanità ha approvato una proposta di legge presentata dal Partito Democratico che intende garantire assistenza sanitaria ai senza fissa timora. Il servizio di Alba Di Palo. Garantire assistenza sanitaria a chi vive in strada, fornire un aiuto nella cura, nella tutela della salute a chi proprio perché senza una casa non può scegliere neppure un medico di base. E l'obiettivo della proposta di legge presentata dal Partito Democratico in Consiglio regionale è approvata dalla terza Commissione Consigliare Sanità. Il testo di legge si basa sui dati relativi a chi vive in povertà assoluta che secondo i rilievi effettuati dall'Istat relativi al 2020 riguarda il 9,4% della popolazione nazionale. L'obiettivo è chiaro. La possibilità di garantire che per essere curati non è necessario rivolgersi ai pronto soccorsi e quindi aspettare i tempi e quant'altro, ma avere un medico di base che sia un punto di riferimento anche per loro. La proposta di legge considera anche i dati relativi alla Puglia con un focus sulla città di Bari in cui ci sarebbero tra i 500 e i 550 senza tetto, di cui il 53,7% vive in condizioni di indigenza da almeno due anni. Più dell'80% di loro ha dichiarato di aver avuto almeno un contatto con i servizi sociali comunali nel corso dell'ultimo anno, mentre il 12% degli intervistati ha dichiarato di avere condizioni di salute precarie o molto gravi. Le patologie più diffuse sono le malattie cardiocircolatorie, psichiatriche o dontoiatriche e il diabete, da qui l'importanza della norma. Si è ritenuto di rivolgere e dare un aiuto concreto a quelle persone che, anche se sono una minoranza, non possono restare inascoltate. La proposta di legge, che intende garantire un abbattimento dei costi della sanità e fornire assistenza dopo il sì incassato dei componenti della terza commissione, sarà discussa in Consiglio regionale.